bello a tutti dal prof allora stiamo aspettando che Adriano si colleghi e dovrebbe speriamo funzionare tutto perché le altre volte aveva funzionato però ci sono c'è qualche problema tecnico quindi aspettiamo che arriva nel frattempo eccolo lo vedo nel frattempo saluto velocemente Alessandra Luca Marisa Davide Gabbianino Auriella Paolo Antonella Rosalinda Gianluca Billy Blues non solo Trek e particolarmente Pietro Pia Marta che ha fatto una tesi di laurea su questo argomento e quindi è particolarmente interessato in prima fila Samuele Scino che saluto Riccardo Rita e ecco intanto è arrivato anche Adriano ci sei? sì ci sono ecco oh fantastico allora vediamo un po' se per evitare il rientro funzionano le mie cuffie Adriano? sì sì ti senti? provo a parlare mi senti? pronto? non ti sento c'è un problema va bene lo risolverò ma spero che funzioni tutto ugualmente innanzitutto ti vedo benissimo questa volta bello che mai è successo ho cambiato la videocamera ho preso una videocamera migliore dunque l'audio è un po' bassino non so se vuoi alzarlo perché credo che dopo la videocamera tu debba fare un investimento nel microfono aspetta 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 allora allora un attimo perché mi sa che ah ma ci ho preso il microfono sbagliato credo anch'io credo il microfono sbagliato però allora mi devi mettere un attimo che vado a prendere l'altro ok stiamo qui che ti aspettiamo nel frattempo saluto vai vai tranquillo Adriano ti aspettiamo nel frattempo saluto Salvatore Schirone Marina Gianluca Dessi Paolo Gobetti Gabriele Bocchiaccini a Maria Carla Conforti grandi tutti grandissimi vedo che siete intatti stasera l'argomento tira Giulia Cavalli Jessica Renda un abbraccione che poi sarebbe Andrea Nebbioso ok allora oggi come avrete capito dal titolo continuiamo ad approfondire un po' la questione del del Gesù storico cioè della storicità non tanto dei Vangeli in generale ma proprio della figura di Gesù e Adriano ha obbligato proprio vediamo un po' ti senti? ti senti? io ti sento bene ma di nuovo ho l'impressione che l'audio sia un po' scarso aspetta forse è colpa mia parla Adriano è il microfono che ho sempre usato quindi dovrebbe andare bene vabbè non è proprio brillantissimo però insomma si capisce spero si capisca allora Adriano senti so che tu hai fatto hai pubblicato recentemente un libro di cui adesso però parliamo però la domanda che ti vuole fare è questa allora noi leggendo i Vangeli incontriamo la figura di Gesù conosciamo questo personaggio e non è che lo facciamo così per curiosità storica lo facciamo perché la persona di Gesù alimenta la fede o alimenta il pensiero ma soprattutto credo per quelli che sono credenti la figura di Gesù dovrebbe bastare così com'è viene presentata dai Vangeli perché bisogna fare questa distinzione fra Gesù storico e Gesù della fede cioè non ci basta il Gesù della fede non è sufficiente in fondo accettare nella fede Gesù come viene presentato dai Vangeli perché dobbiamo fare tutta questa fatica di fare una ricerca sul Gesù della storia perché fondamentalmente il Gesù storico è importante anche per la fede perché perché noi crediamo in un Dio che è incarnato per cui insomma che si è fatto un uomo per cui ha vissuto nella palestina i due mila anni fa per cui studiare anche Gesù come personaggio storico anche per l'uomo di fede è importante è ovvio che poi l'uomo di fede fonderà la sua fede sul Gesù della fede appunto cioè sul Gesù glorioso di cui si parla nel Vangeli però è altre è importante per l'uomo di fede anche capire chi era questo Gesù che due mila anni fa visse sulla terra per comprendere fino in fondo il senso della sua incarnazione questo è appunto di vista teologico e quindi ovviamente lo studio del Gesù storico ha un valore in sé ha un valore in sé per lo storico ovviamente e ha un valore per l'uomo di fede in quanto appunto aiuta l'uomo di fede a comprendere meglio chi era questo Gesù Gesù incarnato in cui lui crede. Adriano ascolta controlla se l'input del microfono viene dalle tue cuffie o viene dal microfono del computer perché la voce rimbomba troppo. Aspetta provo a togliere allora. Adesso mi senti? Come prima. Cioè si capisce però si fa un po' fatica quindi diventa più faticoso ascoltare. Secondo me devi infatti mi dicono che non si sente. Allora guarda prova a controllare l'input del microfono nelle impostazioni da dove viene se dalle cuffie. Controlla anche se inserito bene l'input delle cuffie. Adesso mi sembra un po' meglio però non so se perché tu hai parlato più forte. Continuiamo. ho attivato il microfono della videocamera. È quello il problema. Cioè devi attivare il microfono delle cuffie perché si sente il rimbombo quindi il microfono della videocamera fa questo effetto. Adesso? Adesso va bene. Dai. ecco. Ok. Ok. Eh scusate ma quando uno mette le device nuove ci sono sempre dei problemi tecnici. Ok. Vabbè ti chiamo a mezz'ora prima. Colpa mia. Dovevamo provare prima. Vabbè. Sì no perché io ho messo questa videocamera nuova per aumentare la risoluzione. Ah la videocamera è perfetta. Il prossimo investimento è farlo su un bel microfono. Te ne vendo io uno di seconda mano. In verità ce l'ho. Ce l'ho. però per evitare sorprese. Siccome la videocamera l'avevo testata. Il microfono no. Ho detto vabbè usiamo questo che ho sempre usato. Vabbè siamo qui per imparare. Non finiamo mai. Non finiamo mai di imparare Adriano. Allora ricominciamo da capo. Insomma perché dobbiamo fare questa fatica di cercare il Gesù storico? Non ci passa. Allora riassumendo quello che ho detto che ho detto prima per due ragioni. Allora primo perché il Gesù storico ha un interesse cioè per il Gesù storico c'è un interesse proprio da un punto di vista storico. Essendo un personaggio storico che è vissuto duemila anni fa essendo praticamente un personaggio alla quale al quale si ispira la la religione di diverse centinaia di milioni se non miliardi di persone nel mondo comunque c'è un interesse intrinseco in quanto personaggio storico. Per l'uomo di fede invece siccome il cristiano crede in un Dio che è incarnato ovviamente per lui è importante comprendere Gesù quale personaggio storico per comprendere fin in fondo l'incarnazione cioè il senso dell'incarnazione di Dio. Questo mi sembrano i due motivi fondamentali però poi appunto come dicevamo bisogna distinguere il Gesù della fede dal Gesù storico perché sono due cose diverse sono due cose diverse così come lo dicevamo anche in un altro dei nostri precedenti incontri cose diverse sono il Gesù storico e il Gesù della storia sono anche queste sono due cose diverse e quindi bisogna sempre tenerle distinte perché perché allora riassumendo. Stiamo bene sta cosa perché Gesù storico Gesù della storia uno è il sostantivo. O Gesù reale o Gesù reale. Ecco ecco. Gesù reale o Gesù della storia no? Il Gesù reale o il Gesù della storia è il Gesù che è vissuto fisicamente duemila anni fa nella Palestina del primo secolo no? Quindi eh questa persona che duemila anni fa è nata eh cresciuta e ha predicato ha eh operato un ministero mistero di tipo taumaturgico nella Palestina del primo tempo eh ha proclamato del l'avvento del regno di Dio e poi è morto sulla croce. Questo è il Gesù reale o Gesù della storia. Il Gesù della fede invece è il Gesù di cui troviamo traccia nei Vangeli perché eh questo è il solito tema cioè in cosa credevano gli Vangeli? Cioè cosa dice Paolo no? Cioè se se Gesù non è risorto va nella nostra fede no? Quindi fondamentalmente i cristiani credevano nel Gesù glorioso e quindi conseguentemente andavano a rileggere il Gesù incarnato il Gesù terreno alla luce del Gesù glorioso il quale era quello che importava il quale era il fondamento della loro fede ed era quello che a loro realmente interessava quindi rileggevano il ministero e questo i Vangeli sono pieni di 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 queste riletture no? Per cui ecco lo storico poi deve fare molta attenzione ehm rileggevano la figura del Gesù del Gesù terreno alla luce del del Gesù gloriosamente risorto e quindi praticamente ci restituiscono una testimonianza relativa al Gesù eh terreno che in qualche modo è è influenzata dalla reinterpretazione che eh di costui è stata rifatta alla luce appunto della fede della risurrezione che rientra però cioè ovviamente eh anche di questo parlavamo la fede della risurrezione è un qualcosa che non concerne lo storico no? Cioè per cui c'è per lo storico la la vita la vita di Gesù finisce con la morte sulla croce eventualmente nella sua sepoltura per coloro che credono appunto nella sepoltura come un così come viene ovviamente descritta nei Vangeli come un fatto storico eh tra per gli storici appunto che la ritengono tale e e poi da lì inizia la storia diciamo del eh del cristianesimo tra virgolette no? Perché inizia la storia di un movimento che si basa sulla fede del nella risurrezione di Gesù risurrezione su Gesù sul quale lo storico sospende ovviamente il giudizio perché non è un tema che concerne appunto la sua indagine eh tra queste due figure cioè tra il Gesù della 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 storia o Gesù reale e il Gesù della fede eh c'è il Gesù storico cioè che altro non è che il tentativo degli storici di approssimarsi al Gesù reale o Gesù della storia attraverso le testimonianze che noi abbiamo di lui che però eh sono testimonianze che riguardano il Gesù della fede quindi praticamente è il tentativo di rimontare al Gesù della storia attraverso le testimonianze di fede quindi attraverso il Gesù della fede fondamentalmente perché il grosso delle testimonianze che noi abbiamo a riguardo di Gesù sono appunto testi che non nascono come testi storici tra virgolette ma nascono come testi di fede cioè come ehm eh scritti di teologia narrativa se vogliamo che eh appunto hanno lo scopo di eh fungere da ehm di istruire coloro che eh che 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 nel Gesù risorto ci credevano insomma e ci credono tutt'oggi eh ovviamente rispetto a questa a questa operazione io lo spiego nel nell' introduzione di questo nuovo libro poi dopo ne parleremo eh si possono porre tre posizioni distinte cioè la posizione dei cosiddetti miticisti i quali dicono che appunto eh il Gesù del che noi troviamo nei Vangeli è ammesso che sia effettivamente esistito un Gesù storico cosa che alcuni di costoro negano ammesso che sia esistito un Gesù eh storico cioè un Gesù della storia un Gesù reale eh la ehm figura di Gesù che noi troviamo all'interno dei Vangeli è talmente trasfigurata dalla fede di coloro che lui credevano che praticamente è impossibile rimontare al Gesù reale attraverso questi testi per cui al massimo lo storico dovrebbe studiare la formazione degli stessi quindi la formazione del mito tra virgolette di Gesù quindi del Gesù della fede eh all'interno della comunità cristiana primitiva eh la seconda posizione è invece è quella dei fondamentalisti biblici che diametralmente opposta alla prima che praticamente ritengono che il Gesù della fede il Gesù della fede ricalchi perfettamente per filo e per segno sia un'immagine perfetta no? una fotografia praticamente del Gesù reale per cui al limite la ricerca storica può avere eh la funzione di confermare quanto appunto ci dicono i Vangeli quindi cioè al limite la ricerca storica ha una funzione apologetica quindi conferma eventualmente quanto noi troviamo scritto nei Vangeli e lì dove appunto la ricerca storica sembrerebbe smentire quanto noi troviamo scritto nei Vangeli allora la ricerca storica è semplicemente sbagliata una terza posizione è quella invece che eh con varie eh con varie sfumature è tenuta da tutti le centinaglia ormai se non migliaia di studiosi che si occupano appunto della studio dello studio del Gesù storico della ricerca del Gesù storico i quali ritengono che tra il Gesù della storia o Gesù reale e il Gesù della fede ci sia una continuità eh ma che al contempo siano in qualche modo distinti per cui bisogna in qualche modo ricercare il Gesù storico ehm di cercare di ricostruire di approssimarsi al Gesù della storia eh il più possibile attraverso appunto il metodo storico e creando quello che viene quello che 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 appunto viene detto il Gesù storico che di suo non è né il Gesù della fede né il Gesù della storia ma una sorta di astrazione tra i due cioè un tentativo di approssimazione come dicevo prima al Gesù reale a partire dal Gesù della fede ovviamente è sempre un un un'approssimazione che rimane prospettica limitata dalle fonti anche dal punto di vista dello studioso specifico eh dalle sue precomprensioni eccetera eccetera quindi oggettivamente vi sono vari Gesù storici no? Cioè se uno studia i vari studiosi praticamente eh è difficile di trovarne due eh tra le centinaia o migliaia come vi dicevo prima che sono oggi in attività che eh ci forniscano del Gesù storico un'immagine identica no? Ogni ogni studioso no? Ci fornisce un'immagine un po' diversa perché ovviamente ogni giusto ogni studioso parte da una propria prospettiva delle proprie competenze eh ha dei propri pregiudizi ai propri limiti perché poi come tutti gli esseri umani anche gli storici hanno i propri limiti e quindi ci 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 dà un'immagine leggermente diversa o molto diversa da quella che 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 ci danno i suoi allora quindi ricapitolando per chi ascoltano ci sono i miticisti cioè quelli che affermano Gesù è un mito e quindi le comunità cristiane che ci hanno consegnato i Vangeli ci hanno consegnato questo mito che potrebbe avere o non avere all'origine una persona reale però quello che noi abbiamo questo mito poi dall'altra parte ci sono i fondamentalisti che dicono il Gesù dei Vangeli corrisponde esattamente al Gesù reale va bene e poi ci sono eh diciamo c'è la via di mezzo cioè quelli che dicono noi noi abbiamo diciamo eh un Gesù descritto se è raccontato nella fede dai Vangeli al quale però dal quale però possiamo ricostruire attraverso un lavoro attento di lettura critica possiamo ricostruire i tratti di una persona reale però non tutto evidentemente possiamo eh appunto creare un disegno fare un ritratto che ha dei limiti che è appunto quello del Gesù storico dicevi appunto Adriano non ecco esatto ma come mai questa figura diciamo a metà strada dovrebbe essere per noi interessante cioè a che cosa perché comunque è un tentativo di approssimazione cioè eh nella scienza noi sappiamo che le scienze anche quelle esatte sono fatte di approssimazioni alla verità no? Eh quindi cioè sono tentativi di approssimarsi al Gesù reale quindi sono interessanti perché in qualche modo ci forniscono per quanto astratta un'immagine che vuole essere approssimarsi a quella del Gesù reale quindi in questo senso poi è l'unico sono l'unico strumento l'indagine storica e quindi il Gesù storico è l'unico strumento che noi abbiamo per cercare di approssimarci al Gesù reale quindi è importante per questo perché comunque c'è la la ricerca storica a differenza di quanto eh alle volte viene sostenuto specialmente da autori no teologicamente orientali orientati non è eh vana non è inconclusiva cioè ci sono per esempio dei punti fermi sulla vicenda storica sull'esistenza storica di Gesù su cui ormai eh il novantanove virgola nove per cento periodico degli degli studiosi concordano quindi diciamo ci sono dei margini sfumati ed è invece dei punti di esatto ci sono dei punti che ormai sono sono un'acquisizione possiamo dire sempre in qualche modo provvisoria perché la storia no non è mai fatta di di certezze la scienza non è mai fatta però diciamo ci sono dei punti fermi ormai stabiliti che grossomodo in cui grossomodo tutti gli storici concordano e che possono essere considerati appunto degli elementi acquisiti come dicevo e poi c'è una griglia di ipotesi quindi c'è un nucleo di di eh dati che sono comisi ormai da tutti quasi grossomodo da tutti poi c'è sempre il bastian contrario no però diciamo dalla stragrandissima maggioranza degli studiuti poi c'è una griglia di ipotesi eh che invece hanno un valore eh diciamo più aleatorio più ipotetico appunto all'interno del quale del quale del della quale si svolge poi il dibattito attuale accademico tradiziosi eh e come dicevo io in questo volume lo posso far vedere? Sì certo che puoi farlo vedere. Questo volume è qui che sulle tracce del Nazareno introduzione al Gesù storico pubblicato proprio è uscito una settimana fa per le edizioni Fronesis di Palermo eh cerco di mostrare sono cerco di mostrare eh proprio da una parte quali sono i punti fermi a cui la ricerca storica attorno a Gesù è giunta grosso modo e al contempo di eh illustrare il qual è eh quali sono invece i punti attorno al quale oggi ehm tra gli studiosi stessi c'è dibattito però anche i limiti di questo dibattito perché non è che tutte le ipotesi anche lì dove appunto ci sono delle ipotesi che si contrappongono no? Ad esempio sul eh faccio l'esempio più classico eh che cosa Gesù intendeva per il regno di Dio? Come lo intendeva Gesù? No? Ci sono diverse posizioni no? Eh ci sono posizioni radicali posizioni interventi però ci sono ci sono diciamo dei punti fissi ad esempio nessuno nega che Gesù abbia eh proclamato l'avvento del regno di Dio questo nessuno lo nega poi si gli studiosi discutono su che cosa Gesù effettivamente intendeva con il regno di Dio ci sono ovviamente degli studiosi eh più eh più conservatori tra virgolette cioè che poi in realtà non è detto perché poi se noi andiamo a vedere e lo 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 dicevo anche in un precedente nostro incontro in realtà poi ci sono dei pensatori atei che su da determinati aspetti del ministero di Gesù del e della sua predicazione sono spesso più conservatori dei credenti per esempio eh ci sono molti che ritengono a cominciare da Sanders che era un che è un credente ancora vivo eh ritiene per esempio come come il sottoscritto che Gesù non abbia mai ehm preannunciato la propria morte e la propria risurrezione questa è una rilettura che viene fatta a posteriori dalla chiesa mentre c'è ci sono dei eh degli studiosi atei tipo Kesei che è ateo e marxista il quale ritiene invece che Gesù il Gesù della storia Gesù storico anzi abbia effettivamente eh preannunciato la propria morte e risurrezione no e quindi eh ritenesse che il proprio il proprio sacrificio e cioè che appunto l'avvento del regno di Dio dovesse passare attraverso il proprio sacrificio e questo anche Sanders in realtà in il verso la fine cioè nelle opere più recenti eh in quali diciamo nelle in alcune opere anzi perché poi su questa cosa Sanders ha ha cambiato idea ehm lo lo dice però ci sono molti altri studiosi anche credenti che appunto ritengono che in realtà Gesù non almeno durante il suo ministero pubblico no poi eh bisogna avere quello poi che successe nelle ultime ore ovviamente no quando poi gli eventi precipitarono cosa pensasse nelle ultime ore poi diventa molto più difficile stabilirlo eh però nel suo ministero pubblico non abbia mai inteso lo stesso come un approssimarsi al proprio sacrificio espiatorio cosa che invece ci dicono i Vangeli cioè tutti i Vangeli sinottici sono un'approssimazione cioè sono un un cammino di Gesù verso Gerusalemme e verso la propria crucifissione che appunto eh nella lettura che fanno i Vangeli della vicenda terrena di Gesù è il culmine del ministero del terreno di Gesù anche per Giovanni anche se Giovanni ha un un andamento più altamenante ma se uno vede proprio la struttura narrativa dei Vangeli sinottici sono proprio strutturati in questo modo no? Sono un avvicinamento progressivo di Gesù a Gerusalemme dove lui eh sarà crocifisso e quindi arriverà al compimento di quello che è il proprio ministero e quindi all'inaugurazione del regno di Dio predicato. Allora stanno già arrivando molte domande eh di livello però vorrei cominciare visto che eh credo che sia fondamentale per capire il tipo di di lavoro che si fa quando si fa quando si parla del Gesù storico e della ricerca sul Gesù storico vuole ripartire da eh un commento che fa qui Angelo ma il vero Gesù non è quello che ognuno ha nel cuore? Poi Angelo aggiunge mi sembra che stiamo facendo lavorare troppo la mente e poco e poco il cuore e c'è anche Antonio Emanuele che dice scusate ma che cosa ci interessa di così dettagliato del Gesù storico? Che cosa aggiunge alla fede? Allora io credo che qui si fa fatica sempre a capire questo elemento cioè allora diciamolo subito per andare in paradiso non serve va bene non serve studiare Gesù storico allora che cosa neanche studiare teologia serve ma neanche amare il prossimo e Dio sopra ogni cosa dovrebbe essere sufficiente però appunto cioè perché questa fatica intellettuale cosa c'è? Qual è la radice? Il desiderio di rispondere a perché la gente è poco abituata a pensare prospetticamente secondo me cioè sono varie prospettive su uno stesso soggetto cioè è ovvio che per l'uomo di fede io pure sono un credente no? Non ne ho mai fatto mistero anzi ho scritto persino dei volumi di apologetica per cui figuriamoci eh per l'uomo di fede no? Cioè il Gesù il Gesù glorioso no? Eh 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 quello fondamentale no? Cioè a me mi interessa che cioè che Gesù sia risorto dai morti e che attraverso la sua risurrezione abbia fondato la mia possibilità di salvarmi dai miei peccati no? Cioè questo per me è fondamentale no? Eh attraverso il suo sacrificio l'ha fondato appunto la 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 possibilità per me di salvarmi e attraverso la risurrezione me l'ha testimoniata questa cosa no? Quindi cioè per me per me è fondamentale questo è ovvio che da un punto di vista spirituale quello il Gesù vero vero ma da un punto di vista spirituale il Gesù vero è quello che io incontro attraverso la fede quindi che io custodisco nel mio cuore che incontro attraverso nella chiesa no? Nella chiesa che è il cattolico è il corpo mistico di Gesù quindi quindi che io incontro in e attraverso la chiesa che custodisco del mio cuore e che incontro attraverso i Vangeli così come la chiesa. Quello che Madre Teresa incontrava nel povero nel moribondo tra l'altro eh? Certo. Non ti chiamo anche questo quello che incontriamo nell'Eucaristia nei sacramenti. Ma del resto nel Vangelo c'è scritto no? Cioè c'è scritto chiaramente il Vangelo secondo Matteo no? Quello che avrete fatto no? Al più piccolo tra voi l'avrete fatta a me quindi cioè Gesù stesso che nel Vangelo secondo Matteo dice che dice di potere però è il Gesù glorioso che parla no? Di poter essere incontrato eh nel povero nell'emarginato no? In tutte le persone che soffrono come lui ha sofferto sulla croce no? Tutte le persone che in qualche modo gli emarginati del mondo è ovvio lì quelle sono 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 lì noi possiamo incontrare Gesù il Gesù della fede che è ovviamente per l'uomo di fede è il Gesù più reale di tutti ma ci marcherebbe no? Però allora contro però qui facciamo un lavoro appunto scientifico culturale cioè di dialogo con i non credenti insomma è un lavoro si cambia prospettiva ecco è una verità prospetticamente diversa cioè eh lo dicevamo l'altra volta no se io devo parlare eh di Maometto è ovvio che per un musulmano Maometto è il sigillo dei profeti per me che non sono musulmano Maometto è un profe uno che è il fondatore dell'Islam quindi è un personaggio storico no? Cioè io non eh i miei amici musulmani le perdoneranno ma non credo nel Corano come 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 rivelazione no? Eh però posso tranquillamente cioè allora che facciamo cioè se io non se di Maometto ne possono parlare solo i musulmani? No perché Maometto è anche un personaggio storico no? E quindi ovviamente non non sta ovviamente allo storico stabilire se la sua rivelazione sia vera o falsa questo è o sia vera o meno vera o c'è questo è un discorso che esula dalla ricerca storica se effettivamente Maometto fosse il sigillo dei profeti non è una cosa che 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 interessa lo storico lo storico può rilevare che appunto i suoi saci lo credettero tale che lui si presentò come tale questo lo storico lo può appurare poi non sta allo storico stabilire se lo fosse meno lo stesso discorso vale per Gesù se io devo parlare di Gesù con un musulmano è ovvio che noi da un punto di vista di fede abbiamo di Gesù una visione diversa perché per me Gesù è figlio del Dio incarnato no? È il mio salvatore ma il musulmano è un profeta molto importante ma è un profeta un semplice profeta no? Quindi su quale terreno possiamo basare il nostro conflitto? Su un terreno agnostico tra virgolette che è il terreno della discussione storica cioè cosa noi possiamo a partire dalle testimonianze più autorevoli e più più affidabili che noi abbiamo di questo personaggio storico è dire di chi era questa persona e come dicevo prima è un discorso che ha un valore intrinseco in sé e per appunto la ricerca storica che ha un valore in sé no? E per il dialogo tra persone di fedi diverse e di prospettive diverse perché sul Gesù della storia ci incontriamo tutti no? Sul Gesù storico ci incontriamo tutti perché quello appunto è... Sì credo che questo elemento del dialogo che viene che viene spesso diciamo ignorato infatti qui c'è Salvatore che dice tutti i personaggi storici sono filtrati da una lettura storica e quindi ideologica non capisco perché solo per Gesù ci dovremmo scervellare lo facciamo al finopologetico io credo che però questo sia un lavoro che gli storici fanno su qualunque personaggio in realtà no infatti lo si fa su tutti anche cioè solo che ci sono ovviamente dato l'interesse enorme che la figura di Gesù desta nella 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 cultura occidentale dato che il metodo di ricerca storico è un parto nella cultura occidentale è inevitabile che la figura di Gesù abbia catalizzato su di sé una massa di studi che di gran lunga supera quella di qualsiasi altro personaggio storico sul sul momento per esempio questo lavoro tornando all'esempio di momento è appena iniziato è appena iniziato perché anche perché da soprattutto da parte dei musulmani sunniti c'è una notevole resistenza da questo punto di vista no a voler il problema è quello dell'approccio culturale e il valore che si dà alla ragione cioè alla ricerca scientifica in quanto tale cioè noi crediamo in ambito scritta si è iniziato anche a fare una lettura storico critica del corano si è iniziato in ambito sunnita cioè significa nel per il 90 90 95 per cento dei musulmani ancora è difficile fa questo tipo di discorso ma andiamoci conto è molto difficile fa questo tipo di discorso anche per molti cristiani no cioè il fondamentalismo biblico non è un fenomeno marginale nel mondo nel mondo cristiano cioè tutta la bible belt americana no è fatta di fondamentalisti biblici il fondamento il fondamentalismo biblico cristiano no è il diciamo la guarda i commentatori dei miei video i più diciamo accaniti commentatori dei miei video devo dire in gran parte appartengono a questa categoria sono i più appassionati che ne so boh cioè si vede che poi si offendono subito se uno dice beh però la scrittura va interpretata questa parola interpretare quindi l'uso della della ragione per leggere insomma quindi non soltanto della fede o comunque andare oltre no il senso il primo senso che ti dà la lettura di un testo per cercare di approfondire questo però c'è la fatica a molte menti c'è questo aspetto no dicevamo anche all'inizio la ricerca sul del gesù storico anche un valore per l'uomo di fede però ovviamente per un uomo di fede che non abbia un approccio fondamentalistico alle scritture perché perché ci aiuta ad avvicinarci al gesù al dio incarnato in quanto incarnato no quindi per diventa importante anche sapere chi era cioè perché anche poi dopo qui subentrano eh riflessioni d'ordine d'ordine cristologico io tralascerei in questa in questa in questa occasione però c'è comunque sia a parte il fatto che lo storico non può entrare nella testa del gesù quindi no poi eh da fino a un certo punto arriva la ricerca storica poi inizia la fede no eh però lo storico ci può dire tante cose su gesù e e e la cosa importante quello che ho cercato di dimostrare cioè dimostrare tutto e dimostrare attraverso questo volume è che eh il il credente fallo vedere di nuovo perché prima c'era stato un'interferezza video e eh aspetta che ti inquadro il credente ovviamente il credente non fondamentalista eh ovviamente eh può eh può imparare eh cioè non deve avere paura della ricerca sul gesù storico perché la ricerca del gesù storico in nessun modo può inclinare inclinare la fede no? Cioè eh da questo punto di vista eh bisogna cioè io sono un critico tu lo sai di Bultman di tutto il suo approccio eccetera eccetera però da questo punto di vista Bultman c'aveva ragione no? Cioè il Gesù proclamato il Gesù della fede il Gesù glorioso eh non 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 può essere proprio minimamente scalfito dal dal Gesù della della che che viene fuori appunto dalla ricerca storica anche perché eh diciamo gli elementi eh che vengono fuori no? Di 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 della figura di questa Gesù di tratti di questa figura che vengono fuori eh dalla dalla ricerca storica sono fondamentalmente in continuità no? Con con il Gesù della fede ovviamente in continuità diciamo che vogliono offrire una base solida per proporre o incontrare avere la possibilità di incontrare il Gesù della fede a chi volesse incontrarlo insomma cioè io capisco che per il credente sì sì perché capisco però che appunto a volte la lo studio questo tipo di studio per il credente che non so vuole fare un'esperienza pi e devota è abbastanza deludente comunque c'è Pietro Lamarta che dice che va un po' più sul tecnico e dice quello che interessa è che il Gesù della fede non sia in parte amplificato o distorto dai credenti delle prime comunità cristiane. Quindi andiamo un po' a quello che tu dicevi all'inizio no? Cioè qui c'è il rischio appunto le prime comunità cristiane nel parlarci di Gesù nei Vangeli l'abbiano un po' troppo diciamo abbellito, dipinto, fatto di lui insomma una leggenda, non dico un mito ma una leggenda. interessante risalire al Gesù della storia mediante le attestazioni. Che ne pensi? Allora questo in realtà non tanto perché quello che ci dimostra la ricerca sul Gesù Stotico è che proprio invece nei Vangeli noi troviamo tantissimi elementi che sono storicamente attendibili. Quindi in realtà è vero che i cristiani, le prime generazioni di cristiani a cui noi dobbiamo appunto questi testi rileggono la vicenda terrena di Gesù alla luce della propria fede ma non si inventano niente nel senso cioè comunque ci tengono questo noi lo dobbiamo soprattutto Dan no? Per esempio ha molto insistito su questo aspetto non si inventano nulla cioè i reinterpretano reinterpretano sì anche tanto Giovanni reinterpreta tantissimo però ecco il Vangelo secondo Giovanni ci dà degli scorci alle volte di valore storico su Gesù che sono notevolmente attendibili da un punto di vista storico spesso su determinate questioni è più attendibile dei sinottici per quanto i sinottici appunto essendo teologicamente meno meditati tendono a trasmettere una delle informazioni meno reinterpretati quindi diciamo dal punto di vista storico sono in linea di massima più affidabili e quindi vengono utilizzati di più nel lavoro degli storici nonostante questo ecco dicevo il Gesù giovanneo o perlomeno alcuni elementi che emergono storici che emergono dal Vangelo secondo Giovanni sono spesso degli scorci molto concreti sulla sulla vicenda storica di Gesù e spesso per attendibilità superano quanto noi leggiamo nei Vangeli sinottici per esempio un esempio classico che potremmo fare su un elemento diciamo abbastanza marginale ma interessante è il famoso no la famoso miracolo della guarigione del servo del centurione no nei sinottici questo appunto questi ci viene appunto viene appunto definito un centurione sembrerebbe che si tratti di un soldato romano no centurione un ufficiale romano noi sappiamo che nella in Galilea regnava erode quindi ufficiali romani non ce n'erano ecco in Giovanni in Giovanni non è più non è un centurione ma è un ufficiale regio no ecco che Giovanni no ci dà uno scorcio che è storicamente più attendibile rispetto a quello che noi leggiamo nei Vangeli degli sinottici dove questo personaggio viene descritto appunto come un 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 centurione romano c'è un centurione però si presuppone un centurione romano soldato romano in realtà è probabilmente questo questo episodio probabilmente storico è che poi c'è una doppia attestazione però non si trattava di un ufficiale romano probabilmente si trattava di un ufficiale appunto a servizio delle erode del delle delle milizie mercenari credo che qui ci sia credo che ci sia dietro lo scetticismo che può esserci in alcuni ambienti ci sia la poca fiducia nella tradizione orale che di solito viene rappresentata in maniera molto semplificata come il famoso telefono senza fili se tu fai il gioco il telefono senza fili di quei bambini uno dice una parola e l'ultimo non ha capito niente quindi credo che sia io credo che lì però ci sia un grosso equivoco cioè non il telefono senza fili è un gioco che funziona cioè diventa divertente perché dimostra la distruzione di un messaggio perché viene comunicato da individuo a individuo mentre qui invece c'è una comunità che comunica e controlla cioè c'è un'esperienza condivisa e l'esperienza condivisa che tramanda l'oralità quindi io credo che l'oralità in una comunità che si riconosce in un messaggio sia una cosa diversa dal telefono senza fili guarda su questa cosa io sono d'accordo con te nel senso io sono convinto con Dan con Bailey che poi lo studioso al quale lui si rifaceva che all'interno della comunità cristiana la trasmissione delle informazioni fosse sottoposto a perlomeno ad un controllo di tipo informale per cui insomma c'era un controllo sulla sulla tradizione ma il resto c'ero testimonia c'ero testimonia anche Paolo nelle sue pistole c'è Wenham che è uno studioso britannico che ha scritto un intero libro su questo tema no in cui dimostra appunto che proprio attraverso l'epistolario Paolino noi abbiamo l'attestazione di una tradizione che si cercava di trasmettere in modo nel modo più accurato possibile d'altro canto per inonia della sorte in realtà ci sono degli studiosi che invece hanno fatto della decostruzione se vogliamo della traduzione della tradizione orale no uno dei loro cavalli di battaglia e penso per esempio a Bart Ehrman ma in Italia abbiamo avuto no la coppia destro e pesce che hanno dedicato molti studi a questo tema no ma poi se tu vai a vedere alla fin fine nei loro studi l'immagine che poi alla fine loro ricostruiscono di Gesù del Gesù storico non è che sia molto diversa da quella che invece ci restituisce un danno che invece sostiene l'ipotesi contraria no per cui poi alla fine alla fin fine cioè alle volte diciamo come si dicevano gli antichi nel me nel mezzo la virtù sta nel mezzo no cioè alle volte ci si accanisce molto sulla tesi dell'avversario contro la tesi cioè spesso anche tu mi stai dicendo che a livello accademico anche chi è più scettico sulla tradizione orale però arriva a conclusioni simili a chi è più ottimista ma basta leggere i libri che poi scrivono su Gesù storico no cioè in fondo quello che scrive Erman su Gesù no come profeta apocalittico non è che sia così distante da quello che scrive lo stesso Dan no cioè Dan ovviamente ci dà un'immagine di Gesù un po' più conservatrice tra virgolette però poi c'è la differenza non è così inmarcata anzi se vogliamo c'è poi a livello cristologico Dan è molto più estremista cioè a livello dello sviluppo po' storico della della cristologia ha una posizione che è molto molto più estrema di quella di quella di Erman no cioè poi alla fin fine no è lo stesso pesce io lo cito moltissimo nel mio libro sempre in modo molto positivo perché secondo me è uno dei pochi studiosi per esempio che si insieme a Borg però lui in modo secondo me è molto più efficace pesce mauro pesce perché è uno dei pochi studiosi che si è concentrato sull'aspetto mistico della figura di Gesù quindi sul tema della preghiera personale che Gesù faceva che bizzarramente invece è un tema che viene poco spesso viene poco eh trattato dagli dagli studiosi del Gesù storico che invece nella vicenda umana di Gesù c'è una un valore credo che però però lì emerga in alcuni studiosi una certa allergia all'elemento religioso perché comunque di fatto è un personaggio di cui stiamo parlando è una un fondatore religioso un predicatore religioso quindi se già tu hai dei problemi con la religione eh tu dici la religione l'ha fatta gli altri non l'ha fatta lui diventa una posizione ideologica cioè c'è ovviamente ogni studioso ha un so bias non so come dire no? Cioè però poi subentra il problema no? Cioè se Gesù era per la maggior parte degli studiosi che se ne occupano oggi no? Storicamente era un predicatore apocalittico no? Che annunciava l'avvento del regno di Dio eh ma a questo punto si domanda pesce no? Dici da dove Gesù traeva la certezza no? La fede la sua fede la sua anzi neanche fede la certezza assoluta che aveva nel proprio annuncio da dove la traeva no? Da dove gli arrivava no? È ovvio che se un fondamentalista potrebbe dire ebbè ma quella ce l'aveva dentro iscritta da sempre perché era onnisciente onnipotente onniveggente eccetera eccetera quindi è ovvio. Per uno che crede invece e prende sul serio invece la dottrina dell'incarnazione si domanda ma da da dove gli veniva Gesù questa certezza? E tu poi vai a vedere vai a leggere i Vangeli e nei Vangeli leggi che Gesù si ritirava in luoghi deserti per pregare no? Si ritirava in luoghi deserti cioè in continuazione nei momenti difficili nei momenti di pausa cioè una delle azioni che più frequentemente ci vengono descritte no? Perché di quelle compiute da Gesù è proprio il suo ritirarsi in preghiera no? Allora è evidente che in queste in queste in cui durante queste esperienze forti di preghiera no? Evidentemente Gesù aveva delle potentissime esperienze mistiche no? Di comunione no? Con il sovrannaturale poi ovviamente per me che so credente credo che lui l'avesse davvero no? Uno storico vuol dire con quello che lui pensava no? Essere la realtà sovrannaturale no? E da queste esperienze lui traeva poi la certezza assoluta no? Nel proprio messaggio nella propria missione che non viene meno. Bisogna tenere presente per comprendere tutto questo come detto prima le varie prospettive con cui ci si può accostare alla figura di Gesù cioè non c'è soltanto quella dell'esperienza religiosa personale c'è anche quella dello studio storico scientifico se non metodo scientifico storico senti qui c'è Salvatore che fa una domanda cattiva che ne pensi di Corrado Augas che ha fatto un lavoro divulgativo su questo tema è utile oppure ci mette fuori strada? Allora il problema di Augas che lui è troppo polemico per essere un vero divulgatore cioè lui non fa divulgazione lui fa polemica antireligiosa allora lì se tu vedi abbiamo detto che se tu vedi il libro che lui ha scritto con pesce allora se tu leggi le domande le risposte di pesce ok però le sue domande sono spesso capsiose le sue le sue reinterpretazioni delle parole di pesce spesso diciamo non rispettano pienamente quello che poi alla fine Mauro pesce dice no cioè quindi diciamo eh se tu leggi il libro in chiesta su Gesù che hanno scritto loro due se leggi le parti che ha scritto Mauro pesce ok evita di leggere la parte di Augas perché Augas di suo ci mette solo la polemica e basta cioè c'è non c'è solo il rischio di sconfinare nell'apologetica ma anche quello di sconfinare nell'anti apologetica nell'anti apologetica cioè dell'apologetica teistica no cioè e eh l'intento di Augas in tutti i libri che lui ha dedicato a questo a questo tema è ovviamente apologetico all'incontrario cioè è una apologia dell'anti cristianesimo no? Vabbè quindi il messaggio è leggete Adriano Virgili non leggete Augas almeno insomma a meno che non vi lascia la polemica la polemica sì vabbè leggiamoci pure Augas però sapriate che non è un testo che si pone come obiettivo un 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 obiettivo di carattere divulgativo per cui ci diciamo che Augas è un libro che devono leggere cioè sono opere che devono leggere gli apologeti per trovare risposte a bene all'anti apologetica però diciamo che da un punto di vista scientifico accademico è meglio leggere pesce capito bene le parti perché il libro di Augas era scritto insieme a pesce no? Pesce fa le domande è Augas fa le domande e pesce risponde quello su Gesù inchiesta su Gesù allora se tu leggi le risposte di pesce quelle sono risposte di uno storico autorevolissimo e vanno bene poi si può condividere o meno quello che gli storici ovviamente possono condividere io spesso le condivido a volte no però perché ho studiato sono dieci anni che studio appunto la letteratura scientifica sull'argomento mi sono fatto delle delle idee che non sempre corrispondono ma è giusto che sia così no? Invece l'intento di Augas è ampiamente polemico è un po' come dall'altra parte Messori no? Cioè oppure come 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 i miei libri apologetici no? È ovvio c'è un intento ma io lo dichiaro esplicitamente nei miei libri di apologetica che quelli sono testi di apologetica di teologia fondamentale che riutilizzano il dato storico e il dato filosofico a fini apologetici questo libro che ho scritto qui no questo è un libro di storia no? Che cerca di rendere conto nel modo più semplice no? E sintetico possibile poi mi sono venute fuori quasi 400 pagine però ci ho provato nel modo più sintetico e semplice possibile l'attuale stato del dibattito accademico attorno a questo tema che è il Gesù la ricerca del Gesù storico purtroppo il libro mi arriva domani ma anche se mi arrivava oggi non avrei fatto in tempo a leggerlo quindi comunque quando lo leggerò ne parleremo più a fondo. Ucché Vincenzo Di Maso dice ho letto solo la parte di pesce quindi diciamo viene il nostro al nostro sostegno e dice è leggibile anche le sue parole sul dialogo con Mancuso che però è un libro che non conosco. Sì no lì poi lì c'è pure l'accusa di plagio vabbè lasciamo stare. Quindi hanno proprio litigato? No 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 ad Augas. Ad Augas niente la parte alcune riflessioni di Augas sono riprese da un testo americano degli anni venti però lui non si è guardato bene dal dirlo le ha fatte passare per farina del suo sacco no? Non c'è niente in male. Sono quegli studenti che fanno il dottorato che non mettono la citazione. Il mio libro è è tutta è tutta una citazione però io dico cioè questo l'ha detto questo questo l'ha detto questo. Non è che cerco di far passare per farina del mio sacco ciò che non lo è no? Quello è il tema. E allora intanto Marco Vitelli viene a farti pubblicità. Ho avuto il piacere di leggere anteprima il libro di Virgili. Professor Vitelli. Ringraziamo il professor Vitelli grazie che sta partecipando a questa nostra live. Si tratta di una guida ricca sicura e aggiornata per chiunque voglia accostarsi alla tematica del Gesù storico. Complimenti all'autore. Vuoi dire tu chi è Vitelli Adriano? Beh il professor Vitelli è un grosso studioso insomma delle origini cristiane che insegna nella facoltà teologica dell'Italia mediterranea. Si occupa appunto di temi collegati anche alle origini cristiane soprattutto. Lui per noi, per il gruppo di storia del cristianesimo, ha tenuto un bellissimo corso su Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe e le origini cristiane sul testimonio un flaviano ma lui ha delle cose molto interessanti da dire su quel tema. Ed è stato uno degli studiosi perché io questo testo prima di pubblicarlo l'ho inviato a diversi studiosi per avere un loro parere, un loro eventuale incoraggiamento ad avere dei suggerimenti. E il professor Vitelli è stato così gentile da mandarmi anche lui tantissimi suggerimenti che io nella stragrande maggioranza dei casi ho accolto nel volume. Ed è uno degli studiosi insieme al professor Boccaccini e al professor Adinolfi che io ringrazio appunto nella nota introduttiva del volume che veramente mi sono stati vicini nella realizzazione di quest'opera ma hanno dato un sacco di suggerimenti e sono stati molto gentili insomma in questo. Senti torniamo un po' alla questione del Gesù storico. Qui Maria Carla Conforti dice sarebbe interessante vedere nei Vangeli Gesù storico. Cioè qui ti chiedo una cosa, la chiedono me anche di quelli che seguono, ma sarebbe possibile non so per esempio passare con un evidenziatore i Vangeli e dire mettere in evidenza non so o sottolineare. Queste cose sono storiche e le altre no? Allora io so che ci sono delle edizioni dei Vangeli che c'è di fare questo. Raccontaci un po' bene questa cosa va. Allora nelle in realtà questo era un tentativo che fu fatto in quella che viene detta la seconda ricerca del Gesù storico che è una fase della ricerca del Gesù storico che va dagli anni cinquanta fino alla fine degli anni settanta grosso modo. Per un trentennio gli studiosi hanno principalmente cercato di fare questo di isolare le cosiddette i cosiddetti epsissima verba di Gesù. Cioè di trovare, di riuscire a trovare all'interno dei Vangeli, quindi delle testate. Proprio le parole esatte che aveva detto lui. Che cosa Gesù aveva esattamente detto? Che cosa poteva essere ricondotto al Gesù storico, al Gesù della storia? È un tentativo che oggi viene considerato ampiamente superato perché appunto soprattutto gli studi di Ellison ci hanno dimostrato, ma non solo, ci hanno dimostrato, ma tutti gli studi sulla trasmissione orale ci dimostrano che la trasmissione orale non si cura dell'esattezza del dato, ma del senso del dato. Per cui c'è ciò che viene trasmesso è il senso di una frase o di un insegnamento, più che le esatte parole con quale questo era stato proferito o dirigente, senza contare, questo io lo dico in questo libro, lo dico in incontro a Gesù, che Gesù stesso, no? Essendo un predicatore itinerante, lo stesso insegnamento l'avrà impartito tante volte, forse centinaia di volte, in posti diversi ed è difficile che abbia usato sempre le stesse identiche parole, no? Per cui, cioè, in realtà, tranne che in rarissimi casi, lo accennavamo in un nostro precedente incontro, no? Tranne che in rarissimi casi è veramente difficile rintracciare l'ipsissima verba, no? Io, una delle eccezioni potrebbe essere il talitacum, no? Perché lì, in un Vangelo che forse, probabilmente, questa cosa è di battuta, viene scritta a Roma, che il Vangelo secondo Marco appare un'espressione aramaica, no? E io, su quell'espressione, io... Il mio catechista, il mio catechista che ogni tanto mi segue e che saluto, che sta per compiere 90 anni, il mio catechista, quando un ragazzo diceva che una dell'ipsissima verba era Abba. Anche quello, sì, quello è un'espressione tipica, come Amen, no? In verità, in verità ti dicono che nel testo greco è Amen, Amen ti dicono, in verità viene tradotto, anche quella è un'espressione tipicamente Gesù, evidentemente Gesù lo usava, usava rivolgersi a Dio come Abba, che è un modo, diciamo, confidenziale con cui in aramaico i figli si rivolgono al proprio genitore, così come l'espressione Amen, no? Che è inusitata, però nei Vangeli Gesù la utilizza spessissimo, cioè non è che è nuova, non è che se l'è inventata lui, però lui la usa molto frequentemente, quindi probabilmente effettivamente era un intercalare che lui stesso utilizzava nella propria predicazione. Ce ne sono anche Maranatà, per esempio, no? Eh no Maranatà, sì, anche Maranatà, per esempio, potrebbe essere potrebbe essere un'espressione Gesuana, no? Perché comunque viene riportato in aramaico, no? Quindi potrebbe essere, sono i cosiddetti aramaismi, però anche lì, mentre alcune espressioni tipo Amen, oppure come dicevi tu, no? Cioè ci sono alcune espressioni Abba, no? Che al 99,9% periodico risalgono a Gesù, altri aramaismi invece potrebbero risalire alla prima comunità Gesuana che comunque parlava aramaico, no? Quindi non necessariamente l'aramaismo in sé indica che un insegnamento proviene proprio da Gesù stesso, cioè potrebbe prevenire, provenire dalla primissima comunità cristiana che parlava la stessa lingua di Gesù. Quindi se non è necessariamente discrimine. Sì, certo, certo, quindi l'aramaico non è decisivo. Comunque c'è Marisa che ritorna su Augas e fa la stessa domanda riguardo alle ultime 18 ore di Gesù. Tu hai letto questo libro perché io non l'ho letto. Sì, però... Mentre ho letto quell'altro, questo no, vale lo stesso discorso? Sì, ma c'è, diciamo, lasciamo... Cioè, Augas non è uno storico. Se volete leggervi che cosa gli storici ci dicono del processo a Gesù, leggetevi quello che ho scritto nel mio libro. Fate prima. Vabbè, quindi... Ok. Non c'è... Il messaggio è chiaro. Non è uno storico, ecco. Cioè, quindi... Cioè, per esempio, dallo stesso cosa, anche Messori, ecco, per andare dall'altro lato, no? Cioè, anche Messori non è uno storico. Quindi quelli che mi dicono, ah, ma io ho letto... Sì, infatti, è un'apologeta. È un'apologeta, Messori. Sì, però, è un'apologeta che, per esempio, di Votesi su Gesù ha scritto 50 anni fa. Vabbè, quel è vecchietto, eh. Cioè, negli ultimi... Negli ultimi 50 anni la ricerca su Gesù storica è andata avanti, no? Pur io sono un'apologeta. Adriano, l'ho letto al liceo io, che sono arrivato a 60 anni, quindi diciamo che... È uscito nei primi anni 70, quindi sono quasi 50 anni, c'è atto con il libro, eh. Quindi è poi da tavolo. E non è che lui ha fatto, non è che lui l'ha aggiornato, cioè, lui... Tu considera... Quindi lui, diciamo, si confronta in modo molto limitato, anche, tra parentesi, con la ricerca storica... Però devo dire che io i primi passi nella idea, appunto, del miticismo, del fondamentalismo, l'ho capito, insomma, leggendo... Ma anche io, è un testo che ho apprezzato tantissimo, però, cioè, uno che viene da me e mi dice, eh, ma io ho letto, ho letto ipotesi su Gesù, ecco, cioè, non c'è più nulla da sapere sul Gesù storico, perché me l'ha spiegato, cioè, non è così, non è così, cioè... Antonio Emanuele Sergi dice, cita fra le possibili parole di Gesù, Lema Sabachtani, però quella è una citazione del Salmo. È quello sì, poi sì, quella lì è una citazione del Salmo, va a sapere, cioè, se l'ha pronunciata in in ebraico o secondo la versione aramaica, no? Perché poi lì, no, c'è la distinzione. Quella però è una citazione del Salmo, anzi, probabilmente... Certo che se mi dicono. Anzi, nel libro scrivo che probabilmente quella è una costruzione degli evangelisti, perché nessuno stava sotto la croce di Gesù per sentire quello che diceva. Tutta, tutta la la scena della della crocifissione di Gesù viene ricostruita attraverso citazioni esplicite e implicite bibliche, vetro-testamentari, perché quello che vogliono dimostrare gli evangelisti è appunto che il sacrificio sulla croce di Gesù realizza profezie, no, vetro-testamentari, quindi realizza in qualche modo la storia di Israele, no? Quindi, però, cioè, probabilmente, cioè, non lo sappiamo, ma è difficile che qualcuno stesse giù sotto la croce a sentire quello che Gesù diceva. Allora, Giuseppe Reale va, che siamo sulla croce, ma lui va all'origine. Che cosa possiamo dire sull'infanzia di Gesù in prospettiva storica? Pochissimo. Purtroppo i Vangeli dell'infanzia sono le parti dei Vangeli che più risentono di una lettura teologica, no? Per cui oggi noi sappiamo che soprattutto il Vangelo dell'infanzia di Matteo, ma anche quello di Luca, sono dei racconti midrashici, no? Sono dei midrash, no? Sono appunto dei racconti teologici. Teologia narrativa, ma questo rientra perfettamente in quello che è il genere letterario dei Vangeli. Cioè io nel libro dedico un paragrafo proprio al genere letterario dei Vangeli spiegando questo aspetto qui. Cioè non bisogna... Certo, poi ovviamente... Però questo non vuol dire che non siano veri. Questa cosa va sempre un po' spiegata. Cioè il rapporto tra... Sono veri per quello che dicono, per quello che dicono da un punto di vista teologico la nostra fede. Perché è ovvio, certo. Perché non è che... Cioè non sono storicamente esatti, ma per l'uomo di fede sono veri, no? Alla luce della fede sono veri. Teologicamente sono veri. Però storicamente non sono molto esatti, diciamo, no? Oggi per esempio gli storici... Io su questo non sono molto... Cioè su questo io sono più possibile. Oggi gli storici credono, ritengono per la maggior parte che Gesù non sia nato a Betlemme. Che la storia della nascita di Gesù a Betlemme sia in realtà stata creata, no? Dagli evangelisti per il riferimento appunto alla profezia di Michea, no? 5-1 se non ricordo male, no? Io invece su questo sono possibilista. Secondo me, siccome c'è una doppia attestazione... No, ma anche io risalvo col possibilismo. Cioè ci sono delle possibilità che però noi dobbiamo prendere così come sono nella fede, perché poi non possiamo verificarle sul terreno storico. Cioè dobbiamo dire... Sì, per esempio, un'altra questione dei fratelli di Gesù. È ovvio che lo storico, stando ai testi, l'ipotesi più economica è che quando nei Vangeli si parla dei fratelli di Gesù si vogliano intendere altri figli di Maria e di Giuseppe. Questa è l'ipotesi più economica. Lo storico la deve preferire in quanto... Però, diciamo, non esclude che possano essere vere altre ipotesi. Per esempio, come vogliono i padri greci e come vuole il Vangelo, il Proto Vangelo di Giacomo, che in realtà i fratelli di Gesù fossero dei figli di primo letto di Giuseppe o come voleva San Gerolamo, che in realtà fossero dei cugini, basandosi su delle letture molto sottili, no? Delle corrispondenze evangeliche, no? Perché allora ci dice che la madre Maria Moilligleopo era madre di Ioses e di Giacomo. Allora, ecco, vedi, Ioses e Giacomo in realtà non sono fratelli carnali, ma sono cugini. Ovviamente, poi, la storia lascia aperta queste ipotesi, no? Ci dice che da un punto di vista storico, l'ipotesi più economica è una. Quindi lo storico, il quarto storico, deve preferire quella. Però, poi, io, che come cattolico, credo nella perpetua virginità di Maria, la fede, cioè, colma un dato che mi dà un dato che la storia non riesce a dargli, che l'indagine storica non riesce a dargli. E che comunque l'indagine storica non contraddice. Perché è vero che da un punto di vista economico, cioè, un'ipotesi è più probabile dell'altra, ma non è escluso, non escludono gli altri. Allora, io, per fede, posso tranquillamente, se la mia Chiesa mi insegna questo, io posso tranquillamente credere che, in realtà, quando si parla dei fratelli e delle sorelle di Gesù, non si sia parlando di fratelli e sorelle carnali, ma, appunto, come vorrei a Girolamo, di parenti o, appunto, come vuole un'antica tradizione greca di figli di primo letto di Giuseppe. Questo non... cioè, la storia su questo non... lo storico non ha nulla da obiettare su questo. Perché ci dice, un'ipotesi è più probabile, ma rimangono aperte anche le altre. Cioè, non possiamo essere certi... non c'è... non c'è un fondamento certo di questo dato, no? Senti, tu nel tuo libro fai un breve riassunto sui fatti storici che riguardano Gesù, sui quali il 99% degli storici concordano. E tutto il libro parla di 400 pagine. Parla dei dati su cui tutti concordano, che costituiscono l'ossatura di fondo della mia argomentazione, e poi sulle varie ipotesi che attorno a questi dati... Ma un riassuntino? Riassuntino di 400 pagine in... in 30 secondi. Cioè, quali i tuoi dati su cui tutti concordano che Gesù era Galileo, che era che era un predicatore, che era un predicatore che predicava all'avvento del regno di Dio, che era stato battezzato da Giovanni Battista, che radunò un nucleo di 12 discepoli, attorno a quale però aveva radunato un nucleo più ampio di discepoli, che aveva fama di essere un taloturgo, che appunto la predicazione, in qualche modo, la predicazione del regno di Dio, se vogliamo, alcuni fatti avvenuti nella sua, nella sua, nella sua ultima settimana a Gerusalemme, lo mise in attrito con le autorità giudaiche, i quali, le quali, appunto, lo fecero arrestare, lo consegnarono a Ponzio Milato, che lo fece crocifiggere. Quindi le cose del credo ci stanno. Sì, e che poi, e che poi sì, fondamentalmente, si vedi, cioè, il credente non ha nulla da temere dall'indagine storica, perché poi fondamentalmente l'indagine storica conferma l'ossatura generale dei dati storici attorno a Gesù. Su tante cose no, ma su, cioè, sui particolari no, ma sulle, i dati essenziali sì. Cioè, anche le, anche le, le, le apparizioni del risorto sono, per il 90 per cento di studi sono fatti storici, nel senso, cioè, gli storici dicono, cioè, effettivamente, i discerni dissero delle esperienze, che interpretarono come incontri con Gesù risorto. Ma è molto interessante la posizione di Bart Ehrman, che con tutto il suo scetticismo, a un certo punto dice, e beh, io devo comunque considerare come storie questi, questi racconti di apparizioni, perché queste cose avvengono, cioè le persone raccontano effettivamente le esperienze. E poi dice, anche perché se no non si spiegherebbe, non si spiegherebbe perché i discepoli, no, i, eh, fossero così convinti che Gesù fosse risorto. Poi, che valore dare a queste esperienze? Questa è una... Sì, lui è convinto che si trattò di fenomeni allucinatori, però lui smette di essere, io ve lo dico sempre, lì, a quel punto lui smette di essere storico e diventa filosofo della religione, perché noi non abbiamo, da un punto di vista storico, dati sufficienti per determinare che cosa... Un'allucinazione collettiva ripetuta, insomma, che diventa... No, noi da un punto... Lo storico si deve limitare a rilevare il dato, cioè ci furono delle esperienze, no, di incontro con Gesù dopo la sua morte, che i suoi appunto interpretarono come esperienze di incontro con Gesù risorto, e questo è il dato, punto. Cioè, lo storico qui si ferma. Poi, se vogliamo scoprire che cosa furono questi incontri, allora a quel punto noi esorbitiamo dall'ambito della discussione storica e andiamo nell'ambito del filosofico. Io ci ho scritto tutto un libro su questo tema, ma lì appunto faccio il teologo fondamentale, non faccio lo storico. Io nel libro mi fermo alla descrizione degli incontri con Risorto, cercando appunto di dimostrare come storicamente questi incontri ci siano stati ripetuti, tra parentesi, sperimentati da più individui, sia un dato storico, ma lì mi fermo, lì finisce il libro. Ok, è certo. Allora, Giuseppe dice, e qui torniamo però al punto di partenza, e qui come gioco del loghe, è corretto dire che il Gesù storico mira il Gesù vero, o non è esattamente così? Qui dobbiamo sempre ripetere che il Gesù storico è una costruzione intellettuale. Esatto. A seconda della prospettiva, cioè perché la verità in un certo senso è prospettica, cioè una verità metafisica, che è ovvio che per il credente, come dicevamo prima, il Gesù vero è quello gloriosamente risultato. Però poi ci sono varie prospettive e ogni prospettiva ci permette di raggiungere una verità prospettica. no? L'ermeneutica filosofica ce lo insegna, no? Cioè, no? Quindi, ecco, vero nel contesto delle scienze storiche vuol dire che corrisponde a delle affermazioni che tu costruisci seguendo il metodo storico. No, tra parentesi, lo storico in quanto storico sa che lui in quanto storico non potrà mai raggiungere la verità sul Gesù reale. No, lui non si pone questo, lo sa che è impossibile quello. Perché? Perché? Perché lui si basa sulle testi. Ma quello che dico, per esempio... Contra Gesù attraverso i testi. Quindi le sue fonti, la sua, la capacità che lui ha di gettare uno sguardo su questa figura storica è molto limitata. Quindi lo storico di Gesù sa sempre che poi i risultati a cui arriva sono sempre parziali e probabili, cioè non si arriva mai a certezze. Ci sono ovviamente dei dati che, diciamo, sfiorano la certezza, no? Quelli che ci davo prima, no? Questi, cioè, sono ampiamente assodati, no? Condivissimi, esatto. Quindi possono essere considerati acquisiti, no? Poi ovviamente c'è sempre il bastiano contrario, no? Poi come in ogni buona famiglia c'è la vera con la nera, c'è sempre lo storico che dice, per distinguersi dagli altri magari dice una cosa diversa. Però, diciamo, su questo insomma siamo abbastati... Ma guarda, l'esempio che io faccio ai ragazzi a scuola è questo. Il professor Pagano è una persona reale, ma non sarà mai un personaggio storico. Probabilmente, insomma, in futuro si dimenticheranno di me, però di fatto io sono esistito. Quindi una cosa è la storia, conoscenza storica, una cosa è la realtà. Cioè, quello che ho fatto, oppure se passassi allo storico, quello che ho mangiato stamattina a colazione, una cosa molto reale, ma non sarà mai oggetto di conoscenza storica. Ma anche quello, cioè, per esempio, quello che pensava Gesù, non lo sapevo mai, perché lui non ci ha scritto niente su quello che pensava lui, no? Cioè, di sé, per esempio, no? Io c'è tutto il capitolo sull'autopercezione di Gesù, cioè, noi abbiamo degli strumenti molto limitati, poi ovvio che per fede noi possiamo credere, poi dipende appunto lì poi da come sviluppiamo la nostra cristologia, ci possiamo credere ovviamente che Gesù, essendo figlio di Dio, no? Aveva in qualche modo la coscienza di essere tale, poi bisogna vedere fino a che punto ce l'aveva, eccetera, eccetera, no? A seconda del, di quella che è la nostra posizione cristologica. Anche perché fare la psicologia di una persona... Esatto, è, la psicologia, la psicanalisi dei personaggi storici è la cosa più inutile che ci possa essere sulla faccia della terra. Senti, Riccardo chiede, i Vangeli Apocrifi ci danno un aiuto? Dipende, ce ne sono alcuni certamente. Tipo, oggi è ampiamente riconosciuto, per esempio, lo dicevamo anche in un altro dei precedenti i nostri incontri, che per esempio il Vangelo di Tommaso, siccome ci restituisce, lì dove ci restituisce, ma anche non solo lì, siccome ci restituisce degli insegnamenti che sono spesso in parallelo con quelli che troviamo nei sinottici, e possono aiutarci a ricostruire ed approssimarci in maniera il più possibile esatta, per quanto, insomma, no? Dicevamo prima, no? Non si potrà mai raggiungere una testa assoluta, a quelli che furono il senso, quello che fu il senso originario di alcuni insegnamenti di Gesù. Per esempio, oggi si dà molta importanza a ciò che rimane, io lo spiego nel libro, dei cosiddetti Vangeli giudaico-cristiani, no? I Vangeli utilizzati dalle comunità giudaico-cristiane, che è il Vangelo degli Ebbioniti, il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo dei Nazareni o Nazorei, no? Che sopravvivono solamente in pochi frammenti riportati da alcuni padri della Chiesa, ma che spesso ci danno delle informazioni che sono interessanti, no? Quando poi si va a cercare di ricostruire Gesù nel proprio contesto, che è un contesto ebraico, no? Qua Riccardo, infatti, parla di altri scritti ipotetici, però che siano più antichi i precedenti ai Vangeli mi sembra un po' difficile, perché i Vangeli sono degli scritti abbastanza freschi, prospettiva, forse gli scritti di Paolo. Bisogna considerare questo aspetto, no? Paolo ci dà pochissime informazioni sul giro, ma per quanto qualche informazione io le leggo... Il crocifisso, stato crocifisso del popolo. Ma diverso non solo, che era nato dal seme di Davide, no? Che è nato una donna, eccetera, eccetera, no? Che aveva che aveva appunto un fratello, no? Tra virgolette Giacomo. Ci dice diverse cose, non è che taccia totalmente, no? Però dobbiamo considerare che due cose, che la la comunità cristiana originaria si aspettava la parousia come un evento imminente, quindi per loro non aveva senso mettersi a trascrivere gli insegnamenti di Gesù, perché non aveva... Cioè, loro non pensavano di doverli tramandare alle generazioni future, no? Questo è un problema che sovviene appunto alla comunità cristiana quando i primi... i testimoni del risorto, no? Cioè, quindi, coloro che avevano conosciuto Gesù ed erano stati testimoni, diciamo, delle apparizioni del risorto, cominciano a morire. Allora la parousia tarda a quel punto dice allora no, eh, comincia a... Organizziamoci. È necessario fissare gli insegnamenti alle generazioni successive, sì. E poi, altra cosa, gli scritti Paolini sono scritti di occasione, lui scrive per rispondere a questioni particolari, no? Che veniva, che... Quindi non gli sarebbe mai passato per la testa che duemila anni dopo gli avremmo letti tutti insieme in assemblea. Alla primissima comunità del cristiano no, perché loro pensavano che la... in continuità... Lo dico a San Paolo. San Paolo quando scriveva alla comunità... No, per carità, no, cioè, basta leggere la prima testa tonicesi, per lui la la parousia era imminente, no? Poi a un certo punto per lui si è reso conto che probabilmente non era poi così imminente, no? Però all'inizio, all'inizio del suo ministero, che alla prima lettera di storia cinesi, che probabilmente è la sua lettera più antica, che parla proprio della parousia, no? Ci sono dei passaggi interi che parlano della parousia, ed è evidente che lui lì la considera come imminente, cioè, veramente siamo agli sgocci, quindi non ha senso mettere per iscritto delle cose da perché devono essere tramandate. Basta la... Allora Adriano, qua, certo, qui stiamo per andare all'ora di scena, però c'è una questione interessante che Giuseppe solleva, e cioè le parabole, cioè che Gesù raccontasse parabole, non ho ben capito, è una questione che può essere... può risalire a lui, lui e Gesù è storicamente anche un narratore di parabole, oltre per esempio che un taumaturgo, oppure no? Come è la questione? Allora, nel libro io c'è tutto un capitolo dedicato alle parabole di Gesù, allora, gli studiosi concordano unanimemente sul fatto che Gesù utilizzasse le parabole durante il suo insegnamento, ma sono discordi su tutto il resto, che cosa dobbiamo intendere per la parabola? Quali parabole possono rimontare effettivamente a Gesù? Che senso lui gli dava? Che funzione questi occupavano all'interno della... Su tutto questo si discute, io ne do un'ampia, un'ampia, cioè diciamo una una... un'ampia, un'articolata più che ampia. Però che usasse le parabole nella predicazione... Che usasse le parabole durante la sua predicazione, questo qui è certo, perché è una peculiarità di Gesù. Nel giudaismo del secondo tempio, mentre nella letteratura rabbinica le parabole sono molto utilizzate, negli scritti del secondo tempio, cioè quindi coevi precedenti e coevi a Gesù, cioè quindi nella letteratura coeva, invece la parabola è un genere letterario virtualmente, non completamente assente, ma poco utilizzato. Invece è utilizzato tantissimo nei Vangeli, quindi si ritiene unanimemente che Gesù nella sua predicazione ne facesse ampio uso. Perché si presta molto alla predicazione a un pubblico fondamentalmente di illetterati, no? Cioè si presta molto, è un tipo di teologia narrativa molto evocativa che riesce a mediare dei concetti complessi in modo semplice, intuitivamente comprensibile. Allora, Adriano, come ultima, la domanda più difficile. Tre libri da consigliare oltre il tuo, che poi mettiamo in descrizione. Sul Gesù storico? In italiano? Gesù storico, sì. In italiano, diciamo, no? Perché io ti posso, se riesci a trovarlo, se si riesce a trovarlo... Auges no! Auges lo eviterei. Allora, io se si riesce a trovare, ovviamente se uno ha i soldi per comprarli e il tempo per leggerli, i cinque volumoni dell'Ebreo marginale di Meyer è una, ovviamente, una lettura che consiglio. Un'altra lettura che consiglio, ovviamente dopo aver letto il mio libro, questo è un lettore di approfondimento, un'altra lettura che consiglio... Comunque il primo volume di Meyer, io consiglio, se non ce la fate a leggere tutti, il primo volume... Sì, il primo è quello che... Spiega molto chiaramente che cos'è il Gesù storico. Lì, chiaro, proprio il metodo, cioè il perché, la fatica che si fa, il tipo di lavoro che si fa, lì viene spiegato molto, molto bene. Un altro testo che io consiglio a tutti è la memoria di italiano, quello di James Dunn, che in italiano l'hanno tradotto da Vaidei e in tre tomi, in italiano l'ha tradotto la memoria di Gesù, se non ricordo male, io ho l'edizione, io mi faccio quasi sempre riferimento all'edizione inglese che è Jesus Remembered, che è la prima parte della sua storia delle origini cristiane, quello è molto bello, il primo volume lì è metodologico e lui ha un approccio molto diverso da Meyer, quindi confrontando il primo volume di Dunn e il primo volume di Meyer, ecco, possiamo vedere due approcci diversi, due prospettive, due approcci diversi. Per quanto poi arrivino a conclusioni molto simili, alla fine, però due prospettive diverse, ecco, anche questo è interessante, due approcci diversi che però poi ci conducono spesso a conclusioni simili. Come avviene nella matematica, no? Spesso si parte da punti di vista diversi, poi il problema comunque si risolve è la soluzione la stessa, insomma, questo è interessante perché vuol dire che comunque sono approcci appunto scientifici, seguono un loro metodo proprio ma che è fondato su basi solid. E infine, il numero tre? Un terzo libro, un terzo libro, se riuscite a trovarlo, se riuscite a trovarlo, quello di Sanders pubblicato da Mondatori, Gesù la verità storica, che è un altro approccio ulteriore, Gesù la verità storica, quello è un altro testo che sul Gesù, specificatamente sul Gesù storico. Questi sul Gesù storico. Va bene. Allora, credo che siamo arrivati alla conclusione, anche perché insomma è un'ora e venticinque, stiamo qua. Grazie Adriano, metteremo la bibliografia in descrizione al video, commentate il video, diffondete. A proposito, la prefazione di questo volume, me l'ha scritta, per testimoniare la validità, no? Presunta o reale dello stesso, l'ha scritta il professor Gabriele Boccaccini che è, oltre ad essere un caro amico, è probabilmente lo studioso attualmente in attività più importante perché ciò che concerne la lettera, soprattutto la letteratura enochica, ma diciamo più in generale il giudaismo del secondo tempio e le origini cristiane, col quale ho avuto innumerevoli e lunghissime conversazioni durante la stesura di questo libro e al quale si devono moltissime delle intuizioni e delle soluzioni che io adotto nel volume. Ci tenevo a dirlo perché è veramente stato molto molto gentile. È un credito che gli dai volentieri. Sì, no, veramente incredibile che un luminare insomma della sua importanza abbia preso tanto a cuore questa mia piccola cosa, insomma, mi abbia seguito, mi abbia veramente dato un sacco di suggerimenti, soprattutto sul contesto storico e religioso della vita di Gesù insomma. Bene, allora, grazie a tutti lì, hanno avuto la pazienza di ascoltarci, che insomma c'è il rischio che abbiamo imparato tutti qualcosa, va bene stasera. Grazie, grazie a te per avermi invitato, grazie appunto a chi ci ha avuto la pazienza di stare a sentire la mia stridula e fastidiosa per un'ora e venticinque minuti vedo ormai. Grazie a tutti. La nostra sete di conoscenza, la nostra sete di conoscenza va al di là del tuo microfono. Però Adriano prendi impegno pubblicamente che ti compri un buon microfono. Comunque la prossima volta la facciamo. Ah sì, no, no, ce l'ho. La prossima volta ti invito qui, la facciamo in live. Ah magari, ecco, la facciamo. Che siamo a Roma, ormai basta con queste cose. C'è più lockdown. Esatto, cosa si può fare. Vabbè, alla prossima stai qui. In studio, faremo i Bella Prof Studios. Bene, bella a tutti allora, grazie. Arrivederci. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti.